Si è tenuta nel primo pomeriggio di ieri l'inaugurazione dei nuovi orti pubblici al parco comunale in località Braile ad Arco. Sono 45 quelli pubblici, di cui 17 assegnati a persone anziane e 23 ad altri cittadini, ma anche in comune con un grande spazio dedicato all'utilizzo collettivo, ad esempio per le erbe aromatiche, il compost, la serra. Ci sono poi gli spazi di terra condivisi, gestiti da associazioni secondo un progetto di gestione di tipo partecipativo e sociali con un innovativo orto sbarierato adatto a persone con disabilità e ai bambini delle scuole. Si tratta di una tappa importante fortemente voluta dal comune per il progetto ambizioso e innovativo con cui si sta progressivamente perfezionando il carattere comunitario del parco di Arco, un grande polmone verde con un'estensione di circa 3 ettari. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione Andromeda che si è fatta portavoce di numerosi cittadini e associazioni per una gestione partecipata e sperimentale degli orti urbani con obiettivo primario di costruire comunità, ovvero rapporti, relazioni, scambi. Alla festa di inaugurazione ha partecipato un folto pubblico di assegnatari e di cittadini. Inoltre per l'amministrazione comunale c'erano gli assessori Silvia Girelli e Stefano Miori, la presidente dell'associazione Andromeda che gestisce il progetto degli orti pubblici con i referenti delle associazioni che collaborano. Le forme delle aiuole, differenti le une dalle altre, sono pensate per dare la possibilità di esplorare tecniche agricole alternative ma anche per lavorare sia in gruppo sia da soli. Una serra permette di continuare le attività didattiche e di ortoterapia anche nei mesi freddi. La festa è stata anche l'occasione per raccogliere altre collaborazioni, idee, contributi, oltre che l'occasione perché i gestori degli orti si conoscessero e iniziassero assieme una gestione ricca di buon cibo e di socialità.